Allora, oggi siamo andati a fare shopping In realtà non è tutto di Primark, queste cose sono di Zara e anche queste cose qua sono di Zara E poi queste sono di CNM, mentre queste sono di Primark, soltanto che avevamo rotto tutti i sacchetti Quindi avevamo assurdo tutte le borse di Primark Iniziamo dai CNM Oggi le mie facce saranno contegge perché le ho scelte io le cose Allora, questi body che in realtà sono da abbinare, ma adesso vi faccio vedere a cosa Questo da abbinare così, dai carino E poi così Questo non l'aveva provato tanto, infatti non l'aveva fatto molto felice Questi pantaloncini con gli orsacchiotti, no cosa sono? Tartarughe Guardate che carino Con le tartarughe E poi marroncini Questo non piaceva ad Alice, ma io lo prese lo stesso Allora, camicettina con i pantaloncini sotto Comunque questo completino, molto carino Questo perché Alice lo voleva comprare chiaramente uguale a me perché è una copiola di merda Quindi, no, la Alice mi fa Prendilo amo Vabbè, comunque questo completino E io, dato che mi piaceva molto questo completo Anche se adesso Vediamo un po' su così L'ho presa anche rosa Della stessa taglia, così In realtà non si vede, però è molto più fucsia Dal video non rende tantissimo Sarai carino Sì Adesso passiamo a Zara Quando eravamo da Zara, Alice diceva solo Devi avere fantasia No, devi viaggiare con la tua mente Con l'immaginazione Perché Sofia si sofferma solo sulle cose che sembrano belle a primo impatto Sì, mi voleva far comprare dei vestiti che sembrano mia nonna Da mare Allora, abbiamo preso dei pantaloni uguali Fali vedere bene tu Belli, vero? Li proveremo perché in realtà io, secondo me, ho una taglia molto più grande Però Alice mi ha detto, no, ma va bene, è la 34 Perché tu devi mettere la vita bassa Quindi Vedremo Siamo entrati da Zara per comprare questo coso, temprino Allora Alice mi ha vado a prendere, ho visto questo per lei che No, per te Ti ho detto Per me Sì Io ti ho detto, tu te lo metti? All'inizio ti ho detto, guarda questo che bello Ma io ti ho detto, non lo metto Io non me lo metto, tu te lo metti, io sì E che allora? Io non me lo metterò mai Ma che cos'è, la sirenetta? È bellissima La sirenetta? È bellissima Ma tu immagina con l'immaginazione Poi ho preso questo tubino Io non capisco perché i colori non rendono, però È tipo marroncino, beige, molto carino Bello Questo È verde militare No, è lungo, però Dai, bellissimo Spendo E la proveremo Ora non ho voglia Poi A 10 metri di prendere questa maglietta Mi suona il telefono, scusate Non lo so se mi starà bene, però La proveremo Dai Ciao, non ti rispondo Dai non è disposto Grazie No, Gala, se vedi questo video non ti ha risposto Esatto Perché non c'è una voglia Sicuramente Penso che tutto il resto è per tiaglino, vero? Vero? No, ma è pazza Ha chiamato me Ma cosa che vuole? È urgente Abbiamo stoppato un attimo Cioè per tipo mezz'ora Però fa niente Possiamo continuare Con Zara Allora Primo i pantaloncini Non mi farò vedere gli abbinamenti Perché sono fatti un po' a casa Comunque Pantaloncini Poi Altri pantaloncini In realtà questi avevano una parte sopra da abbinare Ma ora non me la ricordo Poi Magliettina Di Buzz Lightyear Scelta chiaramente da Alice Poi Pantaloncini bianchi Sempre scelti da Alice Bellissimi Che secondo me non stanno bene un po' con tutto Quindi c'è Vabbè Poi Questo Questa magliettina Stupenda raga Che in teoria Andrebbe con Questi pantaloncini qua Non lo so Non mi ricordo con quali era Vabbè Vabbè Immaginazione Immaginazione Questa Mi ha rotto le palle dieci ore Alice Per farmela prendere Stitch Però vabbè C'è Bellissima Stitch così Meravigliosa Cioè se ci fosse stata Da donna L'avrei presa anch'io Ma purtroppo Vabbè Poi Io Sempre scelgo da Alice Perché c'è Ragazzi Ma dove vogliamo andare? Ma che figo Certo Ma poi i jeans stanno sempre bene con tutto Questa anch'io L'oggetta Anche questa Guardate che bella Bellissima Questa devo dire Stupenda Questo Serve sempre Serve Zacchettina Poi Raga Altri pantaloncini bianchi Questi qua Vanno bene con tutto Poi vi faccio vedere anche delle cose di Primark Che stanno bene con questi pantaloncini bianchi Perché sono semplicissimi La maglietta La parte più bella Del haul Maglietta Con scritto dietro Mamma mia Downtown Che figo Per Vabbè Chi deve capire capisce Vabbè Infatti Alla fine di tutto Vi dirò il prezzo Di quanto abbiamo speso in totale Poi passiamo a Primark È tutto È quasi tutto 9-12 mesi Cari Amore Questo è un compilettino rosso Carino Ad Alice non piace C'è scritto sopra Yeah Poi Magliettina Grigia Perché Perché L'abbiamo presa solo per L'abbiamo presa soltanto perché Noi dovevamo prendere questi pantaloncini che sono attaccati Noi dovevamo prendere questi qua grigi Santo che Quelli grigi erano soltanto attaccati a quelli blu E quindi abbiamo detto No viceversa Vabbè Quei cazcle Vabbè Abbiamo preso questo E poi Da avvinerci sopra La cannottiera era Se mi dai il tempo di prenderla Alice Ecco qua Questa cannottiera Esatto Quel che l'è Quel che l'è Così Verde Questo piace solo a lei A me piace Cioè Dove devi andare? Dai a giocare a tennis Questo è carino Questo Secondo me è da bambina Non è vero Però è 12-18 Quindi non so quando glielo metterò Questo è molto carino C'è un gelato Due gelati Ma smettila E te Be nice Poi Vabbè Questo Mi ha sempre rotto i pali Alice Per prenderla E tra l'altro è 12-18 mesi Quindi gliela metteremo Sempre in inverno Perché esatto Mamma mia Stitch Poi abbiamo preso Bolle di sapone Perché erano in cast No l'altro giorno Le facevamo le bolle di sapone La Tiago Non le fregava niente Esatto Vabbè Non le scoppiava neanche Ci guardava come per dire Che state facendo Non erano per niente Perché una rancione L'altro è rosto Ma Vabbè Però sono tutti e due Della Marvel Quindi mi sa che vanno messi insieme Non vanno messi insieme Vabbè Fa niente Fa niente Poi Floreale Avellano Carino Può sempre starci Poi Ballettina Di Spongebob Sempre Alice Sempre io E ultima cosa Bellissima Spongebob Guarda Ah questi non abbiamo trovato Il pezzo sopra Questi non abbiamo trovato Il pezzo sopra Ci metteremo Un body Ah topolino Topolino Un body sopra Così bianco Totale Totale di tutto 500 No Totale Spara Lily 350 No 350 È la solo Zara Comunque 508 Eh vedi 500 508 Vabbè Ciao Ci vediamo al prossimo Abbiamo provato due cose Io ho provato Questi cargo Che ho preso La 34 In realtà Mi stanno Perché se mi mette Vita pasta Mi stanno Anche a vita alta Però Sono più belli Tu sei mia Sirinetta E questo top Molto carino È scatto Un po' piccolo Però Bellissimo Ma che shopping Ci sta Ciao Ciao Ciao